Bene, in questo video vedremo come scaricare un programma sul computer e salvarlo dentro la micropit. Innanzitutto abbiamo finito di programmare il nostro programma. Qui ho due pulsanti, scarica e poi il dischetto. Questo pulsante ci permette di salvare il file con un nome. Ok, a nostra scelta, io lo chiamerò mostra LED. Ok? Una volta fatto questo, premo sul dischetto e qui, in questo punto, mi scaricherà il file. Clicco su questo menu a tendina, clicco su mostra nella cartella e do qua il mio file microbit-mostraled. Quando scarichiamo dal portale un file, lui ce lo salva con microbit fisso e poi il trattino e il nome che noi scriviamo qua. Una volta fatto questo, dato che la nostra microbit, vedete qua, è riconosciuta come una chiave USB, che cosa faccio? Tasto tasto del mouse, invia A e qui mi trovo un microbit. Clicco e vedrete che sul nostro microbit comincerà la parte posteriore dove c'è il LED vicino alla porta USB a lampeggiare. Terminato di lampeggiare, partirà dalla nostra animazione. Semplicissimo. Una volta che è finito di caricare il programma, mi appare la notifica che la microbit è stata rivista, perché durante il processo di caricamento non è possibile interagire, caricare e fare dei lavori sulla microbit, perché è già occupata a copiare il file che gli ho voluto inviare. Grazie a tutti.